Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità per lavori alla stazione tuscolana. Oggi la circolazione ferroviaria resta interrotta tra le stazioni di Tiburtina e Ostiense. I treni della linea FL1 Orte-Roma-Fiumicino non serviranno dunque la tratta Tiburtina-Ostiense e inoltre alcuni treni della linea non fermeranno nella stazione di Nomentana. I passeggeri della FL1 dunque tra Tiburtina e Ostiense e viceversa potranno utilizzare con lo stesso biglietto di Trenitalia la Metro B. I treni della FL3 invece saranno limitati a Roma-Ostiense e non serviranno dunque la tratta tra Ostiense e Tiburtina. Grazie. 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 Grazie.